Grazie a tutti. Speriamo che abbiamo avuto qualche risultato relativamente soprattutto a quella che è la vostra percezione della scuola, del vostro rapporto con i vostri compagni, con i vostri insegnanti, sulle difficoltà su alcune materie, sul vostro metodo di studio e poi per certi aspetti su che cosa vi farebbe piacere fare da grandi. Allora, come ti chiami così da presentarci? Francesco Busco. Francesco, Francesco, ascoltami, ma per quanto riguarda il discorso proprio del tuo rapporto con la scuola, con le materie, con le materie difficoltose o meno, cosa mi vuoi dire? La materia con cui ho trovato più difficoltà è economia aziendale. E come mai, Francesco? Perché non mi trovo molto a studiare. Molto a studiare. Molte pagine a studiare. Mi rendo conto. E secondo te, se, come dire, si riuscisse un attimino a impostare un metodo di studio, un modo anche per studiare insieme questa materia, potrebbe essere una cosa buona? Sì, riuscirei a migliorare molto nella materia. Ah, bene, bene. E invece, tu? Tu, presentati. Bene, grazie d'amico. Maria, grazie. E invece, per quanto riguarda la tua materia preferita? Matematica. Matematica. Come mai questa matematica ti piace? È perché, cioè, proprio all'inizio sono sempre andata bene e poi mi piace perché è complicata. Cioè, per poterla fare, se vuole... È tutto, si basa tutto sul ragionamento. E hai un tuo metodo per studiare la matematica? O è un qualcosa che comunque, tra virgolette, che è stato trasmesso dai tuoi docenti, dai tuoi insegnanti? Sì, è naturale. Ti viene naturale, quindi è una tua, diciamo, un tuo talento personale. Bene, bene. E tu, Anna? Io di te mi ricordo perché, insomma, i nostri sono stati anche degli incontri dove, per aprirti un pochettino, e quindi la domanda a questo punto ti viene fatta. Ma tu, da grande, cosa vuoi fare, Anna? Vuoi andare sotto gli armi e non in corpo. Quindi ormai ti sei decisa, perché c'erano ancora un po' di perplessità durante il nostro PON, ma, insomma, alla fine ti sei abbastanza... Per entrare, come ben sai, comunque bisognerà seguire un percorso di studi, perché comunque ci sono, diciamo, dei concorsi da dover affrontare. Però cosa in particolare, quindi, ti piacerebbe fare? Polizia statale. Polizia statale, benissimo, benissimo. Perché questa cosa, Anna? Diciamo che è un po' una cosa di famiglia, non eseguire... Diciamo, la carriera un po' che parte da papà? Sì. Ah, benissimo, perfetto. E i tuoi sono d'accordo su questa scelta? Ovvio. Sì, quindi papà, diciamo che... E anche questo è molto importante, perché c'è certamente una cultura che non ha niente a che fare con discriminazione, perché vedo che papà allora ben volentieri a piacere, diciamo, volentieri a piacere, diciamo, di avere una figlia nel poliziotta e noi non possiamo che augurare il meglio ad Anna. E ora invece, tu dimmi tutto. Innanzitutto presentati. Sono Samuele Volpi. Samuele. Samuele, durante il nostro percorso molto spesso abbiamo parlato anche del rapporto tra noi, tra voi e i vostri, diciamo, compagni, anche dei vostri amici, di classe. Che tipo di rapporto c'è? No, bello, rapporto bello. Ti senti ben integrato? Quindi, diciamo, siccome noi abbiamo toccato anche temi, ti ricordi come il bullismo? No, quindi, insomma, ti sembra almeno nella tua classe come lo vivete? No. Hai legato con qualcuno in particolare? Vabbè, sì, amici pure delle medie, come lui. Ah, quindi voi siete ex compagni anche di medie, bene. E vi incontrate soltanto a scuola? No, no, pure fuori. Pure fuori, quindi condividi anche, diciamo, le tue amicizie fuori. Studiate anche insieme, solitamente? Ogni tanto, sì. Ogni tanto, e tu mi hai parlato, quindi, di questo rapporto buono che hai con i compagni di classe. Che, diciamo, collaborate in classe? In che senso? Dai, 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 puoi dirlo. Ad esempio, sui compiti, ogni tanto ci aiutiamo, quando qualcuno ha bisogno di qualcosa ci aiutiamo, altre cose. Bene, quindi sei in una classe che se potessi tornare indietro facilmente, cioè, la sceglieresti nuovamente. Bellissimo, mi fa molto piacere. E ora, Dulcis in fundo, dimmi un pochettino. Allora, tu per quanto riguarda abbiamo parlato degli studenti, ti presenti e ti faccio una domanda, mi rendo conto, abbastanza delicata. E con i docenti, gli insegnanti? Allora, io sono un certo amico e con i docenti, sì, sono capaci e mi trovo un rapporto buono e non... Sono, sono tutti molto, diciamo, aperti? C'è qualche docente che invece, come dire, ti intimidisce? No, non mi indivisci nessun docente, sono molto aperti al... quando magari non capiamo un argomento, sono propensi nel rispiegarmi. Ma fate soltanto, diciamo, come dire, lavori di classe oppure vi coinvolgono anche in attività, tra virgolette, extrascolastiche? Di base, solo attività scolastiche, poi ci sono alcuni professori che organizzano dei PON, che dirigono dei PON. E sono esperienze che ti piacciono? Sì. Cioè, quindi le vivi... ti piacerebbe, come dire, ancora eventualmente frequentare altri PON che abbiano, diciamo, la possibilità di farvi anche integrare? Perché questo era un PON che penso che, ricordate tutti, aveva come finalità anche cercare di capire le criticità che ciascuno di voi potevano avere all'interno, diciamo, della classe. Pensi che questo PON ti abbia aiutato, eventualmente, anche ad un inserimento, ad un rapporto un po' più, diciamo, forte con i tuoi compagni di classe? Sì, assolutamente. Benissimo. Grazie a tutti.